C'è chi è in difficoltà a vestirsi, a parlare, a leggere e a scrivere, o chi invece ha problemi di linguaggio e di elaborazione del pensiero. Questi sono solo alcuni dei casi di disprassia, un disturbo che colpisce dal 3 al 6% dei bambini in età evolutiva e al quale sono dedicate le iniziative di domenica 6 marzo, la giornata europea della logopedia. Proprio domenica ci sarà un convegno a livello nazionale? Sì, domenica ci sarà proprio a Roma un convegno nazionale che tratta questa problematica e dove saranno presenti dei relatori di un certo livello, a livello nazionale e internazionale. Però pensate anche di organizzarne uno nel territorio nel mese di settembre? Sì, noi organizzeremo nel mese di settembre, forse a Fano o in Ancona, per accogliere un po' tutti i logopedisti e tutte le persone che vogliono nelle marche essere presenti proprio su questa tematica. Però il vostro lavoro di informazione dura tutto l'anno? Sì, il nostro lavoro di informazione dura tutto l'anno, nel senso che come settimana, questa è la settimana che riguarda la giornata europea della logopedia, che come giorno è il 6 marzo, però dura tutto l'anno. Per cui noi lasciamo a disposizione un'email, che è quella dell'associazione log.alerenzi.it, dove la gente può fare delle richieste, che non riguarda soltanto la disprassia, ma anche problematiche varie che interessano l'ambito logopedico.